Il pallone centrale, la gara va con la fila Capari, questo da lì dentro, va a Martretti, si punta a Micoli Martretti, poi Poulsen, l'appoggia all'indietro per Melo Prestato da Pastore che gli toglie la palla Va via via Pastore, è un quattro contro due La palla per Cavani, era di rigore, Cavani, prova il filo Goal, goal, goal E' il gol, Cavani, 1 a 0, 37 minuti Mauro Germán Camoranesi, Micoli, sul fronte di centro-sinistra Con il destro, prova ad andare dritto in porta, Buffon Goal, goal, Enrique, Simplicio, 2 a 0 Sul colpo di Micoli, Simplici nella rigore Ha toccato col piazzone e ha spiazzato Buffon 2 a 0, 1-1-2